Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua con Leonardo Ciao ragazzi Oggi ragazzi faremo un bel po' di partitazza con Frank, Shelly e anche altri brawler Ovviamente noi vi salutiamo tantissimo Perché grazie mille per esservi iscritti al mio bellissimo club Mega Brawl Beta E ragazzi vi ricordo che se volete avere come amico anche mio cugino Basta veramente che andate sul ventiduesimo posto Spingete profilo e gli mandate l'amicizia Basta veramente che andate qua e spingete qua e richiede l'amicizia E così entrerete anche a fare parte degli amici di mio cugino Che veramente mio cugino è bravissimo Vi farà guadagnare tantissimi coppie, vero Leonardo? Ok allora, sta pronti ragazzi? Vero? Sì Ok allora Let's do this In due Quanto vuoi sapete la superiore? Io ne uso Shelly perché secondo me Frank che è un tank e Shelly che ha raggio molto lungo sono un bel pillo devo dire È vero Tu prendi più con la testa Dai Io ricordo che ho Shelly di livello 7 Io ce l'avevo Aiuto mio amico Aspetta che boh Che boh via 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 Vai a pascolare con i rucchi Vai a pascolare con i pappagalli e i rapazzi Ecco quello che devo fare Io non me la risco, invece me la risco Vai 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 No potevo tenere i power up per te Eh Eh vabbè ero attaccato Beh io ti aspetto qua Tanto non credo che abbiamo tanto bisogno di camperare Ma poi tanto io anche la super caricata quindi parla di gioco Cioè allora la super di Frank è sportissima Dai 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 con anche la U l'ho già visto L'ho già visti quei due birri Vai via per te Che brutto Benissimo arriviamo a secondi Oh secondi non è per me Per te io vi prendo 7 Benissimo 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 Io invece potrò portare Grado 7 Il mio bellissimo Frank 5 coppe Ok Io ragazzi al prossimo Io vedo l'ora di arrivare a 2200 coppe Che così mi sblocco la cassa brawler Ok dai Allora siamo un bel Che mi metto Piper che sono fiducioso però Wow Wow su Oggi almeno voglio fare ancora la prima posizione e la terza posizione Almeno Allora se non facciamo la terza posizione è molto meglio Perché la terza posizione non è che sia uno tra i miei posti preferiti Però quando ci arrivo e mi vengo fatto fuori per caso Non mi arrabbio Ecco Perché la terza posizione è lo stesso Ti guadagno tre bellissime coppe Mamma mia Uu aia 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 Poi abbiamo anche la Bibi La signorina Bibi Io invece qua ho fatto un po' la signora Dai ma ecco Ecco la signorina Bibi Io ricordo che ho il tasso che chiedi io Mentre io ero parte le cascette Però Però Io ho fatto anche altri colpi Uu attenzione che li abbiamo Sandy Il luogo E anche la super caricata è quella che può diventare invisibile Come vedete lì dentro si può nascondere Sandy Via 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 Fallo fuori Fallo fuori Fallo fuori Guarda come lo faccio Guarda come lo faccio fuori se non Sandy Guarda Se la notte si dava Mi davo dietro Mi avremmo dietro l'arco Guarda Dai Me l'ho hito Guarda come lo hito Sandy Dai Dai che lo faccio fuori Uuu 3500 Piper fa troppo male Mamma mia Io Io l'ho Hiffato E portiamo il signor Frankenstein Al Il signor Grado Che sono contentissimo Vai così Allora Io mi metto per questa volta un brawler che farà troppo arrabbiare Vadel Come lo fai ad avere Che avevi 30 cose Ecco ecco Allora Se io prendo Allora ragazzi vi ricordo Che dovete lasciare almeno Quanti like Beh Ma almeno 7000 10000 se si può arrivare Allora Se facciamo 10.000 o 7000 Il massimo Dai facciamo 3000 Ok Per questa cosa 3000 Beh 3000 Che facciamo lo spacchettamento Io e Mio cugino Con Una Mega cassa E 5 cassa brawler Va bene Diciamo farcela Sì Allora Arriviamo a 7000 Per lo spacchettamento di Una mega cassa E 5 cassa brawler Insieme a mio cugino E Arriviamo invece a Se Se arriviamo a 3000 Faremo Un spacchettamento di Una mega cassa Lo stesso Arriviamo sempre con la mega cassa Perché Ultima volta ho fatto Lo spacchettamento Con 5 cassa brawler E io sono appena stato Trollato Dal signore Delle bombe Non ci credo Non ci credo No dai Non lo uso più Nel primo Cioè L'ho portato Ho 400 coppe Su 460 Non ci credo Veramente È l'ora di Tare Mettiti al primo Normal Verso il normal Come fai ad avere Il signor bombardino d'oro Questo Quello è il mio preferito Io ce le ho tutte C'ho anche perché Nel stregono Nel stregono Non è molto raro A me piace tantissimo Nel stregono Ragazzi Volete sapere un segreto Se voi Siete appena entrati Basta la nuova Che vi connettete A Supercell PD E così Ottenete Il regalo Bombardino Più bombardino Stregono E non lo ricordo Se non lo so Perchè Dai stai 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 Che è Veramente Troppo P Vai Vai Tira Lì quelle bombe Da bombardino Dorato Vai Vai che l'hai No Non ci credo No A me Non una coppia A me Non una coppia A te Ma Volte quinti Una volta primi Se facciamo via Vittoria 315 like 15 like Valle una vittoria Dai Ragazzi Se non avete ancora dato Uno schiaffo Al mi piace Per sopportare Il dolore Che sta provando Leo Nel perdere Tutte queste coppie Giocando con un nabbo Come me Che gioco con Frank Veramente Però Io Io Voglio Vincere la partita Con Vivi Che non la uso Da tantissimo E a nelle Come non la usi Da tantissimo Vuol dire Si non la uso Da Cioè non so quanto Però Io direi che non la uso Dalle 3.800 Perché se lo parla Di Non la uso Da Da Non la passamento Di questo senso Se lo parla Di 9500 Ok Io non ho Io ho fatto 9500 E io invece Vengo il tappo Dal signor Bull No 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 Che fai 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 Vai 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 consiglio No Non si crede Ma Che è ritornata indietro Le tappi Noi tappi Stiamo arrivati Dei nuovi Quinti Queste partite Sono veramente Dolorose Tutte Che abbia mai fatto Sentite ragazzi Allora Facciamo così Io adesso uso L'ultima partita in serio cosa ti dico il mio brawler preferito il brawler con lui che ci hita il mondo vai vai così vai su questa la voglio vincere ma ragazzi ragazzi vi lascio in descrizione il canale del signor leo cioè sismabulltsr vi dovete iscrivere lo dovete supportare perché non fa tanti video non li fa perfetti ma ovviamente lo sto ancora imparando a fare i video e io lo sto aiutando io lo faccio con il tablet faccio tutto con video edit per me è molto difficile non lo faccio con il computer però ragazzi si aiuta lui sta ancora imparando ovviamente però lo stesso è già molto bravo a fare i video già da adesso vero leo? si che io li guardo molto io li guardo molto ok aspetta questo qua il 10.000 di vita questo qua il 10.000 di vita dai che vado a popolare anche lui aspetta che mi rigenero ok io la super eh ma anche quella rosa lì non è che sia non è che sia non è che io 5.60 aiutati dai dai lasciali usare lo scudo lasciali usare lo scudo che io uso la super e la faccio fuori dai come se la super ah fai fuori quello il primo fai fuori quello il primo devo vederlo fuori vai no no fai attenzione che quella la ho 11 power dai dai la hito la hito con la super dai dov'è? vai no non è stato il momento no no ma in quale moto? non ci credo era arrivato il primo no è andato il primo proprio quel secondo ma però sono lo stesso contento è una seconda posizione questo qua diventa dai 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 l'avevo detto che portava ok ragazzi ho una cassa ragazzi due secondi alzo un po' l'audio niente però ho 24 gemme tra 6 gemme mi compro una bella skin vabbè ragazzi ok ragazzi questo video si conclude qui se ne volete vedere altri in compagnia di mio cugino basta solamente che me lo scrivete nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ragazzi